salve ragazzi cari amici del web sono andrea bruno in questo momento mi trovo al cairo sono qui giusto di passaggio velocissimo e la cosa che mi ha sorpreso che il cairo sembra tantissimo una città italiana sembra roma sotto tanti punti di vista sembra una città italiana come potrebbe essere roma e guardate qui abbiamo anche addirittura delle vecchie fiat 128 è un po quello che anche la fisionomia delle persone così sembra proprio di essere in italia ecco faccio un po vedere c'è la sensazione che io di stare al cairo mi sembra di essere rientrato in italia ciao a tutti ci sentiamo alla prossima ciao ciao ciao